Quando abbiamo scelto uno dei tour di Caldana è stata una cosa un po' per caso, sinceramente, considerando che è sempre lei ad organizzare i viaggi. Questa è la prima volta che ci affidiamo ad un tour operator, il regalo di compleanno più bello che potesse farlo. La cosa che mi ha sorpreso di più è una preparazione così specifica e così ampia della nostra accompagnatrice. Lei ci portava in tutti i luoghi più nascosti delle città, in modo che ti senti sempre alla scoperta, in modo da farti tornare bambina in qualche modo. E a noi questo è piaciuto un sacco proprio. Io sono rimasta colpitissima dal tipo di strutture che hanno scelto, perché avevano un personale accogliente che ti faceva sentire a casa. Quando ci mettevamo a tavola inventavano sempre qualcosa, magari ci davano degli indizi sui cibi che lui non riusciva neanche a pronunciare, infatti era diventato lo zimbello di tutto il gruppo. Loro ci davano... Questa la tagliamo. Questa la tagliamo. Avevo proprio la sensazione di riuscire in un attimo a cogliere tutto quello che quel paese può lasciarti. È stato duro andare via. Io so qualcuno che mi fa una bella narrazione, come se entrassi in una favola. Per me è quello, il viaggio. Per me è quello, il viaggio. Ciao! Grazie a tutti.